Salve a tutti ragazzi, video brevissimo, secondo video è aggiornata per dirvi semplicemente che tra una mezz'oretta sarò in live sul canale di Frost26 Quindi se volete passate, trovate il link della live in descrizione E nulla, ci divertiremo con varie challenge a tema Pokémon, quelle del Pokédex insomma, lo sapete benissimo quali sono, ce ne sono un sacco su Youtube Mi raccomando, fate un salto, fateci un saluto e nulla passate